Ciao a tutti ragazzi, qui il vostro ArcGliParla, trovate nel database di PlayStation, grazie a PlayStation GameSize su Twitter, un nuovo aggiornamento per Cold War, ovviamente per PS5 e PS4, ma di conseguenza arriverà anche per PC e per tutte quante le console di Xbox. A parte ovviamente la speculazione di cosa sarà presente in questo aggiornamento se contenuti veramente concreti e importanti, chiaramente non altre mappe di zombie che già ci hanno confermato non arriveranno più, ma sì qualche altra cosa di armi, mappe multigiocatore, operatori e piccolezze del genere che comunque a noi ci possono interessare. Di recente per dire hanno rilasciato, dovrei dire, Carneficina a Munizioni Misteriose, che è già stata presente ovviamente su PlayStation, dato che c'è sempre stata Carneficina, per le altre piattaforme è una modalità praticamente nuova e appunto io l'ho potuta provare in streaming, comunque una carina idea, però soltanto una piccola aggiunta per Carneficina, anche se appunto questi erano i contenuti che già ci avevano annunciato, quindi quelle ricompense del Super Easter Egg, con l'altra modalità di Epidemia e quest'altra variante di Carneficina. Quello che teoricamente dovrebbe o potrebbe arrivare sono altre mappe multigiocatore, finalmente la falce gigante del triste mettitore come arma corpo a corpo e sarebbe ora, e proprio a riguardo finalmente Ravenov. E non sarà un pochino travagliata per questo personaggio come operatore, perché prima si parlava di aggiungerlo, poi però un po' è stato completamente rimosso, adesso se ne parla nuovamente perché è presente nel coach del gioco, sia di Warzone e di recente di nuovo anche per Cold War. E teoricamente anche la falce gigante come arma corpo a corpo è l'arma sua, presente nel suo bundle da acquistare, quindi se dovesse arrivare quell'arma dovrebbe teoricamente arrivare anche Ravenov proprio come operatore. Purtroppo appunto soltanto come bundle che andrebbe acquistato, mi aspetterei i classici 2000 se non 2400 Cold Points, quindi circa una ventina di euro. Continuo a pensare che se avessero rilasciato quel bundle ai tempi del primo Easter Egg di Epidemia, l'avrebbero acquistato letteralmente tutti quanti, io compreso. Oggi farei veramente molta fatica a giustificare l'acquisto, per quanto l'operatore sia molto bello e sarei curioso delle battute, oltre che l'arma che comunque può essere sempre sbloccata. Queste sono alla fine le poche cose che possiamo aspettarci per adesso di Cold War e presumo anche alcune delle ultimissime aggiunte, dato che si avvicina anche la season 4 di Vanguard per finalmente una mappa around e penso che tornerà anche lì la concentrazione principale. Sempre stato fantastico sicuramente un anno due di Cold War, ma ci hanno già confermato nel vecchio blog che appunto i contenuti in arrivo sono veramente pochi e principalmente nel multiplayer per mappe multigiocatore, operatori e chiaramente le armi che sì possono essere sbloccate e utilizzate su zombie, ma giusto una piccola aggiunta per quanto molto gradita. Purtroppo con anche questi aggiornamenti presenti nel database non c'è una data precisa, per cui magari me lo aspetterei nelle prossime settimane e probabilmente prima ancora del lancio della stagione 4 di Vanguard a circa altre settimane e mezzo di distanza. Questo un attimo per come al solito differenziare i contenuti e non rilasciarli tutti quanti assieme perché non avrebbe alcun senso e se già è apparso l'aggiornamento nel database è teoricamente abbastanza vicina e non troppo lontana. Per tutto quanto il resto possiamo soltanto aspettare informazioni ufficiali da parte di Triarch che continuano comunque a mantenere aggiornato il loro profilo Twitter con le poche informazioni che per adesso ci sono di Vanguard, oltre tutte quante per dire le patch notes e le informazioni future per i contenuti che vedremo, che sia Cold War o Vanguard, speriamo che arrivino comunque abbastanza in fretta. Vorrei sapere ragazzi quindi le vostre opinioni, cosa vi aspettate da questo aggiornamento, se finalmente l'arrivo di Ravenov e la sua arma falce corpo a corpo o qualche altra aggiunta un pochino minore ma chiaramente quelle più grosse, per cui altre mappe multigiocatore, probabilmente altri bundle e cose del genere e nel caso arrivi il bundle di Ravenov finalmente, chi sarebbe interessato ad acquistarlo? Il video quindi si conclude qui, spero come sempre che vi sia piaciuto vi sia stato utile, il post originale di PlayStation Game Size è qui sotto in descrizione, trovate anche tutti quanti i link per i miei social tra cui Instagram, Twitch e anche il canale Discord. Ci vediamo come sempre a un prossimo video, un abbraccio, ala.